Buongiorno, sono il dottor Liborio Quinto, tecnologo alimentare esperto in nutricetica, biochimica, enzimologia e nutrizione. In questo video vi parlo di un prodotto utile per rinforzare le vostre articolazioni di tutto il corpo, quindi colonna vertebrale, gomiti, giuntere delle dite, caviglie, ginocchia e così via. Molti sportivi, persone di mezza età, anziani, nel loro corso della vita possono avere problemi di articolazione, di diambulazione, di dolori, di fastidi, dovuti a indebolimento e consumo delle cartilagini. Esistono dei prodotti alimentari come lo Ioint Solution, che è un integratore alimentare, utili per migliorare la funzionalità articolare. Nello specifico, DNA Solution ha questo prodotto, Ioint Solution. E io sono un loro rappresentante. Questo Ioint Solution è una polvere solubile di 120 grammi e all'interno è presente anche un misurino di 3 grammi che se ne preleva una certa quantità si scioglie in un bicchiere di acqua e si beve. E questo prodotto aiuta a migliorare, ad attenuare i dolori di spalla, ginocchia, articolazioni varie e così via. E aiuta anche a rinforzarle, perché contiene le seguenti sostanze. Glucosamina soffato, condriotina soffato, vitamina C, collagione idrolizzato ed MSM. Le prime quattro sostanze che ho nominato servono a nutrire, spessire le cartilagini e in parte anche dei legamenti. La quarta sostanza, l'MSM, funge invece da antinfiammatorio, antidoloritico e indirettamente apporta ulteriore zolfo alle articolazioni. Lo zolfo, sotto forma di zolfati, è una sostanza utilissima per le articolazioni perché serve per formare la contriotina solfato, l'eparan solfato, il dermaran solfato e tante altre sostanze chiamate GAG solforati. Quindi questo prodotto, preso una volta al giorno in maniera regolare, durante la settimana e il mese, aiuta ad attenuare i dolori e a spessire lo stato di cartilagine e contribuire a recuperare la funzionalità articolare. Non è un farmaco, è un integratore alimentare. È un prodotto italiano e lo potete prenotare dal sottoscritto tramite messaggio, contattandomi. Il prodotto se lo ordinate, non ve lo mando io, ma ve lo faccio spedire dal magazzino della DNA Solution di Settimo Torinese. Io sono semplicemente un loro consulente con incarico alle vendite. Vi saluto e grazie per l'ascolto.